Nel mondo dei motori si ama dire che Misano vale un anno ed è proprio così visto che decine di migliaia di appassionati dalle prime ore del mattino si sono assiepate sui prati e all'interno delle diverse tribune dell'autodromo di Santa Monica. Una marea di persone di tutte l'età nazionalità e colori sportivi accomunate da un'unica passione il piacere di correre in moto e più in generale della velocità. FMI News ha intervistato alcuni di loro per cogliere l'emozione di essere a Misano per tifare i propri beniamini a partire dai giovani piloti del Team Italia impegnati nella gara della classe 125. Amici appassionati benvenuti al terzo appuntamento con FMI News edizione speciale dal circuito di Santa Monica e già sentiamo il calore del pubblico che si sta avvicinando all'autodromo. Allora innanzitutto chi ti fai? Valentino. Valentino? Sì. Senti ma lo sai che c'è anche una scuderia italiana nella 125 quindi che corre prima di Valentino che si chiama Team Italia facciamo un imboccolupo ai due ragazzi Tonucci e Morciano? Ah sì sì li seguo su Motosprim, sono dei bravi ragazzi sì 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 e speriamo che facciamo bene. Allora dovete sapere che noi abbiamo un team che si chiama Team Italia con due giovanissimi piloti si chiamano Alessandro Tonucci e Luigi Morciano mi piacerebbe che faceste un imboccolupo a tutti e tre ragazzi insieme. Allora gli auguriamo la stessa fortuna che ha avuto Valentino sicuramente e speriamo di ritornare per vedere loro nella MotoGP auguri in bocca al lupo. Si è appena conclusa la gara della classe 125 sentiamo i commenti dei protagonisti dal microfono di Marcel Vulpis. Alessandro allora è la migliore prestazione della stagione? Un commento su questo? Posso dire che questa è stata la mia prima gara vera di quest'anno dopo il momento di crisi che ho avuto dall'inizio fino adesso mi sto sbloccando mi sono sbloccato sto tornando a guidare abbastanza bene mi sto ridivertendo e quindi da adesso è un nuovo punto di partenza per queste ultime 4-5 gare. Siamo vicino alla zona punti entro la fine qualche punto in classifica dobbiamo starci dobbiamo prenderlo. Team manager Roberto Locatelli ci ha spiegato prima nella tenda che hai fatto una grande seconda parte della gara. Sì all'inizio i primi due tre giri ho un po' dormito poi c'è stato qualche impiccio mi è caduto Iguema davanti Stafford all'inizio mi è caduto davanti e mi sono staccato dal gruppetto dove c'era anche Gigio che è poi andato a punti quindi poi verso la fine verso metà gara ho iniziato a girare di passo in 46-0 45 alto e vedevo che erano lì a tiro non prendevano non si allontanavano da me quindi penso che se non succedeva quel piccolo incidente di Iguema e Stafford penso che potevo stare anche con loro e forse anche qualcosina meglio. Allora tutti gli appassionati dei motori fai una promessa primo punto al Gran Premio d'Aragona? Primo punto al Gran Premio d'Aragona sì prometto. Luigi nuovi punti in questo mondiale una delle tue migliori prestazioni un commento su questo. Oggi ho fatto 14esimo non è la mia miglior prestazione in gara perché ho fatto 11esimo in Repubblica Ceca e sono partito bene oggi perché le partenze le ho migliorate molto anche da inizio anno. Poi alla Quercia sono andato dritto al primo giro sono passato 18esimo poi solita gara in rimonta ero diventato 14esimo dopo il settimo giro poi nel cercare di andare via avevamo un problema alla sospensione dietro un inconveniente diciamo non era un problema grande però quando cerchi di fare di più il problema aumenta e ritornavo indietro perché sbagliavo o perché cercavo di dare il gas un po' troppo presto e di nuovo recuperavo e è successo 3-4 volte in gara questo fatto qui e l'importante è che sono stato convinto comunque ad arrivare davanti a quel gruppetto e adesso vediamo vediamo per la prossima di fare molto meglio. Il Gran Premio di Aragona credo che sia importante puntare a fare una striscia consecutiva di punti. Sì sì e poi non l'ho mai vista quindi sarà tutto positivo. FMI News ha incontrato Lorenzo Baldassarri vincitore del trofeo Red Bull Rookies Cup nato per valorizzare le giovani promesse delle due ruote. Ti chiedo innanzitutto di presentarti così ti possono conoscere tutti coloro che seguono FMI News. Sì mi chiamo Lorenzo Baldassarri ho 14 anni e quest'anno ho corso con la Red Bull Rookies Cup. Che cos'è esattamente questo trofeo? È un campionato monomarca siamo tutti sotto la stessa tenda abbiamo la Red Bull come sponsor e è una scuola una scuola che soprattutto forma e formativa quest'anno mi ha servito molto ho imparato molto. Hai vinto questo trofeo e di quanto è distanziato ad esempio il tuo rivale diretto il secondo? Ho vinto sì quest'anno ho vinto vinto proprio nel mio circuito di casa prima della gara ero a sei punti dall'australiano Sissis che dopo io ho finito terzo e lui quarto quindi mi sono giudicato la vittoria. Progetti futuri? Spero di poter il mio sogno nel cassetto sarebbe di arrivare al modo mondiale però adesso è ancora presto per dirlo il prossimo anno sarò riconfermato nella Rookies Cup e cercherò di imparare ancora di più perché non si finisce mai imparare e dopo si vedrà. Il tuo sogno penso sia la 125? Sì, sia adesso la 125 che diventerà poi Moto3 dal prossimo anno. A conclusione del Gran Premio di Misano abbiamo intervistato il Presidente Federale Paolo Sesti. Presidente Sesti, dal Mugello ad oggi quali sono le principali novità e come sta sviluppando il progetto del Team Italia? Ma diciamo che non ci sono novità nell'ambito del progetto. Diciamo che il 2011 è un anno di esperienza per tutti, per la FMI, per i tecnici, per i piloti. Diciamo che dal Mugello ma soprattutto da Bernou abbiamo trovato sicuramente un equilibrio completo sia dal punto di vista tecnico che i piloti nello stesso tempo stanno crescendo. I conti li faremo evidentemente alla fine del campionato dopo l'ultima gara però siamo abbastanza ottimisti, fermo restando che dietro comunque stanno crescendo altri ragazzi che oggi sono in testa nel campionato italiano e stanno facendo molto bene anche nel campionato spagnolo. Un grande sforzo che stiamo facendo e che riteniamo di dover assolutamente portare avanti anche nel 2012 perché è un aspetto strategico dal quale non possiamo evidentemente decampare. Prossimo appuntamento con FMI News edizione speciale per il campionato del mondo Superbike da Imola il 24 e 25 settembre sempre su Federmoto TV.